Andiamo a soffrire l'Inter, allora il derby è stato molto equilibrato al di là degli episodi fino agli ultimi 5 minuti del primo tempo, gli ultimi 5 minuti del primo tempo l'Inter ha avuto due occasioni e sull'onda ha iniziato molto bene i 20 minuti del secondo tempo, però poi gli altri 20 minuti del secondo tempo sono stati nostri, scusate.